Gli strumenti per parodontologia. Che cos'è il parodonto o periodonto? È una parola greca, no? Composta da peri, odus, odos, che vuol dire dente, tutto ciò che sta attorno al dente. Quindi il parodonto sono i tessuti attorno al dente, cioè l'apparato di sostegno del dente, composto da vari tessuti. I molli sono la gengiva e il legamento parodontale e i duri sono il cemento radicolare e l'osso alveolare dove il dente è inserito. Le malattie parodontali sono più conosciute le gengiviti e le parodontiti. La causa di queste malattie è sempre batterica, cioè dovuta alla placca non rimossa. La placca non rimossa può esitare in carie se prende una strada, può esitare in malattia parodontale se ne prende un'altra. Paradossalmente ci può essere un dente sano senza carie con malattia parodontale, perché può succedere anche questo, no? Quindi è una malattia ancora più subdua, ancora più infida della carie. Nel senso che poi non dà dolori immediati, la cosa poi si scopre in un certo senso strada facendo. Cosa fa la malattia parodontale? Produce il distacco dei legamenti e quindi il distacco del dente dall'alveolo sostanzialmente. Produce il ritiro dell'attacco epiteliale, produce come conseguenza come se la gengiva si ritraesse e la formazione di cosiddetti spazi vuoti, che si chiamano le tasche parodontali. Quindi è una malattia molto, ma molto pericolosa, che può portare, se non viene contrastata, ovviamente alla perdita dell'elemento dentale. Allora, tutto nasce dalla placca. La placca è un consorzio di batteri che si mettono insieme e che col tempo, questa placca prima ha uno stato morbido, uno stato diciamo iniziale, che può essere ancora rimossa dall'igiene quotidiana domestica che si fa in casa. Se però non viene, diciamo, contrastata con quest'igiene domestica, pian pianino si solidifica, si forma il tartaro, che come composizione chimica è un salato di calcio, quindi con la posizione di sali di calcio e di fosfati si forma questa pietra che in inglese, anche in latino, viene chiamato calculus, cioè praticamente è una concrezione minerale, sostanzialmente, di sostanze minerali che si depositano sui denti. Il tartaro, ovviamente, deve essere rimosso solo, non può essere rimosso da noi, ci vogliono degli strumenti appositi per poterlo rimuovere, quindi sono gli strumenti manuali, sono degli strumenti sonici, degli strumenti ultrasonici, che lo devono togliere da quella posizione e quindi bisogna ricorrere agli operatori professionali, quindi diciamo che questo è un po' l'inizio di tutto il discorso. La detertrasi è una cosa che si può fare tramite curette manuali, dove è possibile, dove ancora si può lavorare manualmente, dove non è possibile bisogna, si può ancora utilizzare la curette manuale, ma si deve lavorare con una tecnica che si chiama a cielo aperto, cioè il curettase a cielo chiuso si può fare senza bisogno di aprire dei lembi, il curettase a cielo aperto vuol dire che bisogna proprio scoperchiare la gengiva e pulire con degli strumenti raschianti tutta la superficie, diciamo, di tartaro, che aderisce alla radice del dente. C'è un confine tra cielo chiuso e cielo aperto, si dice che per tasche inferiore a 4 mm si può lavorare senza fare dei lembi, per tasche più profonde si devono fare dei lembi e quindi questo sta un po' alla scelta dell'operatore a seconda se ritiene ancora di lavorare in un modo piuttosto che nell'altro. Senz'altro lavorare a mano è difficile, è lungo, è faticoso, richiede strumenti sempre affilati, lo strumento, la curettase deve essere affilata perché sennò non riesce a rimuovere bene il tartaro, allora la tecnologia poi ha inventato le punte soniche e ultrasoniche per togliere il tartaro con micropercussioni, percussioni micrometriche che alla fine lo fanno distaccare, distaccano queste particelle di tartaro. Qui ci sono delle punte soniche che noi consigliamo per fare queste operazioni fino a 4 mm di profondità, di tasche di profondità, quindi sono le forme più correnti che si usano. Esistono però non solo le punte soniche, esistono tutta una serie di punte ultrasoniche che noi mettiamo a disposizione per questo tipo di profilassi e poi dopo la profilassi c'è la lucidatura del dente con i vari gommini più o meno morbidi, più o meno duri, a seconda dei casi. Ora, ritorniamo un po', quindi il punto di partenza è comunque debellare il tartaro, impedire che il tartaro aderisca alle superfici dei denti, però, ecco, la malattia parodontale vive degli stadi. Il primo stadio è la gengivite. La gengivite è una specie di campanello d'allarme, vuol dire che c'è un'infiammazione alle gengive, se non viene bloccata in tempo si trasforma in malattia parodontale. In malattia parodontale l'attacco epiteliale si perde, i denti sembrano più lunghi perché è la gengiva che si ritrae e quindi nasce la parodontite, l'infiammazione del parodonto. Sanguinamento, recessione gengivale, ipersensibilità al caldo e al freddo, mobilità dei denti, alitosi, sono alcuni dei sintomi, insomma, che dicono che c'è malattia parodontale nei denti. Allora, bisogna capire un po' come sono fatti queste strutture parodontali. Allora, una struttura parodontale sana, c'è il dente che ha lo smalto e poi, dove finisce lo smalto, inizia il cemento radicolare. Cioè, quindi questa giunzione amelo-cementizia è importantissima perché è proprio il confine preciso tra lo smalto e la radice. Un confine molto netto, molto preciso. In un dente sano, il sondaggio parodontale entra in un solco e arriva fino a una certa profondità, da 1-3 mm, a seconda dello spessore gengivale, del biotipo della persona in questione, e c'è, dall'aggiunzione amelo-cementizia in condizioni di salute, un attacco epiteliale, l'attacco si chiama così, di 1-1 mm e 2, vuol dire che il dente è sano. Poi, sotto questo attacco epiteliale, sotto quindi il confine dell'aggiunzione amelo-cementizia, c'è il cosiddetto attacco connettivale e poi c'è tutto il resto. Questo è l'osso, in questo momento è il cemento che lega il dente all'osso, quindi sono proprio le fibre parodontali. Il cemento è una fibra parodontale anche quella, anche il cemento. Ora, con il proseguire della malattia parodontale, cosa succede? Sì, c'è un distacco proprio. Il corpo umano sente l'aggressione e, come in una battaglia tra eserciti, si deve ritirare in posizioni sempre così, dove non c'è questa invasione batterica. Per cui al sondaggio questo attacco epiteliale viene meno. Non è che si perde, si ritira, cioè si ritira in posizione sempre più in basso, sempre più apicale, quindi si riforma, ma ha profondità più profonde. Quindi ecco l'impressione che i denti si allunghino, perché c'è un ritiro di tutto quanto i tessuti, del tessuto molle gengivale, degli attacchi epiteliali e quindi anche il connettivo si sposta, e tutto un arretramento in un certo senso. È chiaro che arrivare a questo, questo confine preziosissimo dell'aggiunzione amelo-cementizia, ormai è stato superato e quando c'è il superamento di questo confine, si è in malattia parodontale. Quindi è molto importante conoscere un po' tutti questi termini, perché poi si sentono e poi si devono metabolizzare per capire di che cosa stiamo parlando. Allora, se la profilassi classica lavora su tasche profonde fino a 3-4 mm, oppure su un tartaro che è gengivale, supra-gengivale, cioè la situazione ancora, diciamo, fisiologica buona, normale, e quando c'è questa migrazione sempre più apicale, le tasche diventano sempre più profonde, si arriva a tasche molto profonde, ci vogliono strumenti molto lunghi, molto sottili, per asportare, per distruggere, per rimuovere questa placca che si è formata sempre più in profondità. E questi sono gli strumenti specifici per lavorare nelle tasche profonde, per cercare di rimuovere la placca dalle superfici ormai radicolari dei denti, perché a questo punto sono entrate le tossine, hanno invaso le radici, hanno invaso il cemento radicolare. E per togliere, quindi per levigare le radici, per togliere questo strato sporco, invaso da tossine, ci sono tanti strumenti, le punte di prima, gli strumenti manuali, la lavorazione a questo punto a cielo aperto, perché è un pochettino difficile vedere quello che si fa a cielo chiuso, ma c'è anche, Comet ha inventato delle punte che sono uniche nel loro genere, sono veramente uniche, non ce ne sono ancora così belle per l'evigatura radicolare, che sono queste, che sono delle punte soniche, faccio presente che sono soniche e non ultrasoniche, perché non è possibile costruire queste punte in versione ultrasonica, e sono in varie versioni, una versione sinistrosa, una versione destrosa, una versione dritta e profonda. Ecco come funzionano, funzionano sia a cielo aperto che a cielo chiuso, perché possono essere usate in entrambi i modi, in entrambi i dati, e lavorano così. Hanno una parte operativa in quest'asola, tutto ciò che è esterno è perfettamente arrotondato, quindi non ha, non traumatizza la gengiva, e lavorano per movimenti diciamo circolari, molto delicati, su tutta la superficie della gengiva. Questo è il concetto di queste punte SF10. Ovviamente queste punte lavorano su tratti diritti di gengiva, se ci sono delle concavità, se ci sono le cosiddette furcazioni, cioè le volte tra radice e radice, tra radice, quindi questi anfratti così, non è possibile usare quelle punte, bisogna utilizzare altre punte, e questa è una punta specifica per fare questo tipo di lavoro, e cioè l'SF11, che ha una particolarità, una particolarità molto strana, cioè che non ha delle lame, ha per così dire delle scanalature, non so come dire, cioè ha delle porzioni che sono non taglienti, ma sono raschianti, quindi non tagliano, volutamente non devono tagliare, e quindi questa microvibrazione sonica fa sì che agendo nelle furcazioni che possono essere sia tra radice e radice, ma anche nelle parti concave di una radice, riesce ad asportare la placca che si trova in quella posizione. E farlo con gli strumenti manuali è sempre possibile, ma richiede molto più tempo, molto più energia. l'operatore che lo fa deve avere una certa forza nel braccio per lavorare di trazione, continuamente lavorare in un cielo, e la sfilatura dello strumento manuale deve essere impeccabile. Con queste punte, invece, il tutto si semplifica moltissimo. Altro modo di lucidare, diciamo, le radici, il parodonto radicolare, è di utilizzare gli strumenti rotanti. Ora, la strumentazione rotante ha pregi e difetti, nel senso che il pregio è che è molto rapida, molto veloce, quindi senz'altro il difetto è che è un abrasivo, quindi comunque rilascia una certa rugosità. Quindi bisogna fare più passaggi per avere una superficie liscia, perché quella superficie, se rimane rugosa, ovviamente è pulita al momento, ma poi si riforma la placca. E quindi questo è uno dei kit che proponiamo per la levigatura, diciamo, radicolare, e comprende sia strumenti diamantati che strumenti, in un certo senso, affini molto simili a quella punta sonica che abbiamo visto prima, la 11, quindi non con lame taglienti, ma con lame, per così dire, battenti, che devono proprio raschiare la placca dalle superfici, diciamo, concave o dalle furcazioni. Questa è la composizione del kit, qui ci sono dentro queste diamantate. Già il numero di giri massimo fa capire a che velocità devono essere utilizzate per evitare, ovviamente, surriscaldamenti. Se poi noi guardiamo qual è la velocità ottimale, circa 2000 giri, quindi sono strumenti da usare a bassa velocità, molto bassa velocità, per evitare di surriscaldare un tessuto così, diciamo, importante come quello parodontale. Questo, visto quindi tutto ciò che ha a che fare con l'asportazione della placca parodontale dalle radici, c'è poi un altro intervento chirurgico parodontale che è il cosiddetto allungamento di corona clinica. Che cosa vuol dire? Vuol dire quando si ha un dente come questo distrutto dalla carie e volerlo comunque utilizzare per scopi protesici, per ricostruire una corona sopra, non si può costruire una corona, non si può bonificare finché si vuole, ma se non c'è un tessuto sano su cui ricostruire qualcosa, questo dente è destinato comunque a rompersi. E quindi che si fa? Si deve andare a cercare il tessuto sano più in profondità, dove c'era questo arretramento dei tessuti sani, invasi così dalla placca. E quindi si fa il cosiddetto allungamento chirurgico di corona clinica. Che cos'è? E' un aprire dei lembi, andare alla ricerca del tessuto sano, andare alla ricerca dell'osso, al limite ravvivare quest'osso, pulirlo dalle tossine che l'hanno invaso tutto attorno con degli strumenti particolari, e pian pianino fare quindi un intervento chirurgico di chirurgia parodontale, tutto attorno al dente in questione, e arrivare ad avere questa parte utile per poi ricostruirci sopra una corona. Quindi richiudere tutto con i punti e poi alla fine riuscire a produrre una corona metallica, una corona non è importante cosa si faccia, però l'allungamento di corona clinica è una delle evenienze più ricorrenti ormai negli studi odontoiatici. Si può fare in tanti modi, come per esempio, qui c'è un kit, tra l'altro kit non è più in produzione, ma è per rendere l'idea di quali strumenti si possono usare per allungamento di corona clinica, si usano moltissimo strumenti a gambo FG extralungo, quindi gambo 3,16. Perché? Perché io devo, operatore, vedere cosa mi combinano gli strumenti tutto attorno al dente, devo quindi vederli, quindi devo avere dei gambi lunghi. Sono strumenti, generalmente qui sono delle palline, ma ce n'è uno molto interessante che è questo, che è uno strumento che taglia solo in testa e risparmia poi le pareti del dente ed è uno strumento veramente parodontale perché ha anche una marcatura di profondità. Ad un certo punto si vede una tacchetta che dice che a 4 mm ha raggiunto una determinata profondità e questi sono strumenti, diciamo, per l'allungamento di corona clinica. Ho preso questo kit perché sono tutti messi insieme, quindi è molto facile presentarli tutti insieme anche se il kit non esiste più. Poi ci sono punte soniche per allungamento di corona clinica, nel senso che nel caso di prima si è usato prima uno strumento rotante, poi per fare il lavoro come si deve, con più precisione, con più esattezza, si possono usare delle punte soniche che sono molto particolari. Sono, come dire, le palline schiacciate che hanno la diamantatura solo sul bordo. Quindi questo è il grano di diamante e io gratto l'osso tutto attorno al mio elemento dentale, quindi per, diciamo, andare alla ricerca di osso nuovo, di osso vivo, che poi si rigenera e si rigenera in un modo così più sano, con queste punte soniche, molto sottili, che non sono rivestite qui sui lati, per cui riescono a entrare tra dente e dente, non tagliano le superfici prossimali dei denti, ma solo l'osso sottostante. Questo è un tipo e questi sono altri tipi. Allungamento di corona clinica può essere fatto per tanti motivi. Un motivo, per esempio, per cui si fa allungamento di corona clinica è il cosiddetto sorriso gengivale, cioè sono persone che ridono più con le gengive che con i denti. È una cosa estetica, ma ha anche un motivo, bisogna cercare di allungarli questi denti, in questo caso si possono allungare come facendo, per dire, dei lavori con i bisturi per tagliare un po' di gengiva, e poi però, non è solo tagliare la gengiva, bisogna anche, diciamo, trovare un confine osseo da ridisegnare, cioè con queste punte si può entrare sotto gengiva e ridisegnare tutta una festonatura ossea tale, per cui il dente non ha più il sorriso gengivale, ma ha un sorriso, diciamo, normale. E qui ci sono le varie punte per allungamento di corona clinica. a cielo chiuso, ovviamente si possono usare anche a cielo aperto, perché nessuno lo vieta, e i vari tipi di, come si dice, di versione, cioè c'è questa versione che potremmo definire vestibolare, nel senso che questa è la parte liscia che io posso appoggiare sul vestibolo, e c'ho queste parti che possono essere rispettivamente distali e mesiali, a seconda della posizione in cui devo lavorare. Poi c'è una pallina più grande, una pallina più piccola, questo l'operatore deciderà quale è più corretta nel caso clinico contingente. Qui ci sono le varie punte per allungamento di corona clinica, secondo questa tecnica.